Ci sono rimpianti perché pareggiare una partita che avevi già in pugno ma come l'avevamo approcciata, come l'avevamo recuperata dopo un errore grossolano del nostro difensore e gestita per certi versi. Ci sono mancati gli ultimi dieci minuti in cui invece di provare a gestire un po' di più e avere un po' più di possesso palla e cercare anche il terzo gol ci siamo fatti un pochettino, ci siamo abbassati leggermente, abbiamo concesso prima una grande occasione e poi siamo scesi di concentrazione su quel calcio d'angolo. La nostra idea è quella di essere propositivi, di andare su tutti i campi e provarci a giocare contro tutti gli avversari, a prescindere quale avversario sia poi delle volte ci riesce, delle volte ci riesce un po' meno. Noi abbiamo dei ragazzi under molto bravi, sinceramente non guardo mai l'età alla grafica dei fuori quota perché avendo il portiere 97 mi permette di stare tranquillo tanto è vero che poi è entrato un 96 al posto di un grande durante la partita, quindi questo è solo merito della programmazione che abbiamo fatto dall'inizio abbiamo ceduto il giocatore alla Juventus, cosa che non succede mai o è da tanto che non succedeva, quindi noi per il momento siamo contenti. Noi siamo comunque una matricola anche se sappiamo di essere una buona squadra che prova a giocare al calcio e quindi sicuramente ci piacerebbe stare un po' più su. Oggi era un'occasione buona però veniamo da quattro risultati utili, adesso ci riposiamo un po' per le feste e ripartiamo pronti per cercare di salvarci il prima possibile innanzitutto. Sì, diciamo che il risultato è sostanzialmente giusto, innanzitutto abbiamo incontrato una buonissima squadra che si esprime molto bene, io lo sapevo, essendo un abruzzese l'avevo vista già giocare, sapevo che questa era una squadra molto forte. Secondo me nonostante il primo tempo siamo andati in vantaggio ma non abbiamo fatto assolutamente bene, perché eravamo troppo lunghi, non riuscivamo ad accorciare sui loro mediani, c'erano un po' tanti problemi. Invece nel secondo tempo, soprattutto negli ultimi 20 minuti, abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo cambiato anche il sistema di gioco. Ha messo dentro l'artiglieria pesante. Eh certo, abbiamo un po' presidiato un po' più l'area loro e abbiamo, secondo me, creato tante occasioni da gol. Penso che lì abbiamo anche, insomma, fatto gol meritatamente, abbiamo avuto occasione con Agostinelli, un'altra con Miani, insomma un palo, quindi secondo me il pareggio è giusto e io dico sempre ai ragazzi quando le partite non si possono vincere non le dobbiamo perdere, perché comunque si muove la classifica, facciamo adesso un bel Natale, la società mi sta mettendo a disposizione i giocatori che possano darci una mano, come avete visto oggi. Niente, andiamo avanti, sarà dura fino alla fine perché comunque questo è un campionato molto equilibrato.